buongiorno ragazzi oggi voglio condividere con voi un piccolo trucco che uso nelle mie uscite a light rock fishing e ultra light spinning e allora questa è la canna che uso io per fare entrambe le tecniche wixom 5 2,3 10 2 10 grammi a cui ho abbinato uno shimano fx 2000 questa combo io la uso sia per il light rock fishing che per l'ultra light spinning con artificiali e testine piombate che comunque vanno dai 2 a massimo i 10 grammi a cui ho abbinato un trecciato colpo 008 con finale in fluorocarbon della caverland 0 20 questo ad esempio è una testina piombata della caverland da 2 grammi che noi andiamo a mettere nel nostro moschettone o anche eliminando il moschettone l'andiamo a legare direttamente nel nostro finale in fluorocarbon testine piombate che comunque hanno un certo costo quindi andiamo a vedere adesso come riuscire a ricreare una testina piombata spendendo il meno possibile in un video già presentato nel canale tra l'altro video editato da da walter canale instagram val fishing canale che tra l'altro vi consiglio di andare a seguire perché da sempre degli ottimi consigli e quindi andremo a ricreare la stessa testina piombata con un piccolo accorgimento che poi vi spiegherò a cosa servirà per fare le nostre testine piombate per siliconici piccoli come in questo caso andremo ad usare un amo a gambo lungo numero 4 della caverland in un pacchetto ci sono 20 pezzi e costa 3 euro e dei comunissimi piombini spaccati da due grammi costa 2 euro e 19 un pacchetto se non ricordo male ci sono l'incirca 30 piombini sempre della caverland detto questo cosa andiamo a fare prendiamo il nostro amo a gambo lungo e andiamo a piegare leggermente l'occhiello in questo modo poi prendiamo il piombo spaccato andiamo a mettere il piombo qui dove abbiamo fatto la piegatura e andiamo a stringere ed ecco qui la nostra testina piombata ovviamente poi in base ai siliconici che volete andare ad utilizzare andrete a scegliere la misura degli ami a cui siete interessati per delle gommine più grosse ad esempio come in questo caso andremo ad utilizzare degli ami più importanti come questi realizzata la nostra testina piombata andiamo a prendere anche del comune nylon che sicuro abbiamo un po' tutti a casa qualche rimanenza in questo caso ho uno 016 della caverland ovviamente vi consiglio di usare un filo che abbia un carico di rottura minore a quello del floor carbon che avete montato nel vostro nel vostro finale del vostro trecciato e cosa andiamo a fare andiamo a legare il nostro nylon alla nostra testina piombata ed ecco fatto andiamo a tagliare l'eccedenza e poi andiamo a prendere circa 25 centimetri più o meno di nylon alla quale facciamo una semplice asola tagliamo nuovamente l'eccedenza ed ecco realizzata la nostra testina piombata con lo spezzone del nylon realizzata la nostra piccola montatura con la nostra testina piombata possiamo andare immediatamente a mettere la nostra gommina ed essere subito in pesca questa dimensione di AMI va benissimo per gomme di questa dimensione ma va benissimo anche per siliconici come l'isome siliconico molto usato al light rock fishing e adesso vi spiego il perché di questo finale andiamo a prendere il nostro moschettone chiudiamo e abbiamo il nostro finale tutto questo perché perché mentre noi stiamo pescando se dovessimo incagliare la nostra testina piombata l'unica cosa che ci resta da fare è tirare dal nostro trecciato e andremo a perdere solo la nostra montatura finale lasciando integro floor carbon e trecciato e moschettone proprio per questo motivo vi ho consigliato di usare un nylon con un carico di rottura inferiore al nostro trecciato e floor carbon detto questo il secondo scopo qual è? se noi mentre stiamo pescando al light rock fishing decidiamo di accantonarlo perché magari vogliamo provare un gigliettino ad ultralight stacchiamo la nostra asola dal moschettone andiamo a mettere un gigliettino e voilà da light rock fishing passiamo subito ad ultralight stessa cosa inversamente siamo ad ultralight non c'è movimento non ci sono predatori nulla di nulla andiamo a staccare il nostro bel gigliettino andiamo a prendere la nostra testina piombata e passiamo dall'ultralight all'ight rock fishing quindi semplice veloce risparmio e qualità una volta realizzate tutte le nostre testine piombate possiamo andare a metterle su un pezzo di spugna come questo e nel caso di rottura potete andare a prendere una nuova testina piombata già completa e andarla ad innestare nel vostro moschettone niente di più semplice e niente di più rapido ovviamente si può anche andare a variare la conformazione delle nostre testine piombate anziché per esempio mettere il piombo sul gambo del lamo come in questo caso potete anche mettere il piombo spaccato sulla lenza in modo da poter decidere di lasciare il gambo dritto e il piombo potete decidere voi a che distanza metterlo dall'artificiale vedete basta non schiacciare troppo il piombino spaccato di perderlo non lo perderete ma basta schiacciare leggermente per poter decidere a che distanza metterlo dall'artificiale questo è un altro tipo di amo a gambo lungo perché già l'avevo da prima e possiamo innescare la nostra gomma sfruttando tutta la lunghezza del gambo vedete e mettere il piombo dove si vuole libero sfogo alla fantasia detto questo ragazzi un saluto da me dalle nostre testine piombate e dal nostro siliconico vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un commento per sapere cosa ne pensate a riguardo attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e ci vediamo al prossimo video ciao raga